Come rimediare al danno? In questo caso bisogna rifare completamente il cotico. Qui non siamo a livello di fare un patchwork e riparazione del prato con integrazioni di terriccio e semente. Qui bisogna rifare ex novo per metri quadri e metri quadri queste spiaggette di questo giardino storico. Proseguendo dal giardino monumentale della fortezza al parco monumentale della città di Firenze delle Cascine, vorremmo ritornare sulla questione degli usi impropri dei parchi storici. Un altro esempio analogo a quello che abbiamo descritto alla fortezza è la permanenza ancora del Luna Park in questo contesto del parco delle Cascine. Come la ruota panoramica, la pista di ghiaccio e la fortezza, la presenza nonostante che da decenni si dica dovrebbe essere provvisoria, ma in realtà è permanente in questo punto del parco che è il baricentro del parco monumentale delle Cascine fra il parterre della Vasca e la Palazzina Reale è un altro elemento che dovrebbe far riflettere. Un giorno nei giardini c'era scritto vietato calpestare le aiuole. Probabilmente non è il caso di questo giardino monumentale storico in cui le aiuole sono state divelte, l'impoverimento floristico è eccezionale, il degrado della vegetazione forestale è evidente, quindi in un giardino ornamentale otteniamo l'effetto contrario. La compattazione del terreno mi provoca perdita dello strato di vegetazione graminacea microterma che peggiora le sue condizioni di sopravvivenza alle basse temperature. Il substrato, il terreno umido compattato dalle ruote dei carri mi provoca asfissia radicale. Dall'asfissia radicale si riduce lo scambio gassoso della pianta. Riducendo lo scambio gassoso della pianta abbiamo radici superficiali, non approfondimento radicale, perdita della capacità di ritenzione idrica del suolo e questo porta alla senescenza del manto erboso nonché in condizioni di accumulo di umidità, anche formazioni di patogeni, soprattutto fungini. I danni ambientali che lì per lì alla sensibilità non vengono percepiti invece ci sono e perdurano. Un giardino degradato non si può più chiamare verde pubblico. Il parco pubblico per sua natura è il luogo dove il cittadino diventa sovrano e riconquista un suo rapporto democratico con la natura. Ascoltare la natura, leggere un libro in silenzio, passeggiare, codere della luce, del sole, delle piante e conoscere le piante che nel giardino si riescano a piantare e a mantenere. Il Luna Park, iniziative del genere, ripropone invece un uso del parco dove il cittadino non è più sovrano in un rapporto diretto con la natura ma ritorna ad essere consumatore come nella stragrande maggioranza dei casi della sua vita quotidiana dai grandi centri commerciali e non luoghi a quello che è diventato ormai la dimensione dello spazio per gli uomini dei nostri tempi, cioè quello di essere consumatori. Riportare il giardino alla sua natura essenziale vuol dire anche riportare il cittadino alla sua sovranità e al suo rapporto democratico con una fetta di territorio che è di tutti, che è della collettività. Allora si capisce perché la gente non viene più nei giardini per ammirare il verde e avere un contatto primigenio con la natura. Ha bisogno di altri surrogati, come una ruota panoramica, un Luna Park ma questo si può trovare ovunque e metterlo ovunque.